Chi vorrebbe come prossimo Presidente della Repubblica? Draghi, subito, senza pensarci. Mario Draghi come prossimo Presidente della Repubblica sarebbe il top. Perché? Perché è una persona colta e che può dare tanto a questa nazione. Berlusconi, perché è stato accusato tre volte e il fatto non sussiste. Zaia, perché è il mio Presidente della mia regione e perché ha lavorato bene nell'ultimo periodo. Renzi, perché vorrei vedere cosa riesce a combinare ancora. Fedez, perché? Perché ha buone idee. Forse Romano Prodi, perché ha sempre dimostrato di avere il senso dello Stato. Enrico Letta. Conte, perché è una persona che è sembrata valida all'inizio della pandemia. Giorgio Armani. Gennaro Gattuso. Perché è orichidritto, orichidritto. A me sarebbe piaciuto un Presidente della Repubblica donna, cioè mi piace. Emma Bonino. Una donna. A me piacerebbe una Rosi Bimbo. Elisabetta Casellati. Marta Cartabi. Andiamo Draghi. Berlusconi no. Caro buon vecchio Silvio Berlusconi. Siamo a Milano, il Cavaliere ne ha fatto un po' di cotte di crude, però è stato anche un po' perseguitato. Silvio Berlusconi. Forse ritornerà a Renzi. Prodi. Terzani. Mattarella. Caro figlio. Paolo Bonolis. Carlo Verdone, sì. C'è la giusta cosa di ironia, ma la giusta visione sulla gentilezza che si può avere in questa Italia un po' scellerata. Accetto la qualunque. Più pilo per tutti.